Una commedia che forse aiuta anche gli uomini a capire come sono fatte le donne, perché per gli uomini sono veramente incomprensibili. Siamo rimasti un po' indietro. No, no, ma Cristina non ha questa posizione. Ha una posizione secondo me molto aperta, nel senso che lo spettacolo racconta proprio di tre persone, non giudica nessuno. Prima sembra che sia tutto molto dalla parte femminile, però poi finalmente Stefano, il nostro Luca, può farsi spazio anche violentemente e dire la sua. E la cosa bella che a me piace molto di Cristina, a cui interessano moltissimo i rapporti uomo-donna, è che alla fine tutti questi tre personaggi escono insieme e di nessuno possiamo dire lui ha più ragione, lei ha meno ragione o ha più torto, ma è una visione a 360 gradi che ci dà di questo momento di rivoluzione, di comunicazione, di novità. Bello, mi fa molto piacere. Cristina riesce sempre a creare un'atmosfera particolare? Sì, diciamo io è la prima volta che lavoro con la Comencini ed è stata una bellissima esperienza, perché è riuscita a creare discipline e serietà, ma anche molta leggerezza e molto gioco. Per cui ci siamo divertiti, però abbiamo lavorato bene. In questi giorni, nell'ultimo mese, si sono stati tirati fuori i DVD e le cassette di Drive-In. Te ti sei rivista? No, no, io non lo sapevo neanche, ma io non ho fatto proprio Drive-In. Io ho fatto alcune puntate dove avevo vent'anni e facevo la figlia di Beruschi e di papà Camomilla, ti parlavo come Beruschi.